E' bello amare il calcio. Liga Serie A e Team presentano la Serie A Team. Il Milan continua la sua rincorsa all'Europa in casa della Spal e va a caccia del sesto risultato utile consecutivo. Ha invece il problema opposto alla squadra di Leonardo Semplici, che ha vinto una sola partita delle ultime dodici. Pallono contro uno con Lazzari, palloni che gira! Salva Meret! Ma non può nulla sul tapin di Patrick Cutrone! Altro inizio problematico per la squadra ferrarese. Ottavo gol subito nel primo quarto d'ora. Nessuno in questa Serie A Team ha fatto peggio. Va Viviani! Pallo esterno! La Spal spaventa il Milan, che deve risolvere un problema. L'astinenza di gol nei secondi tempi, che dura dal 6 gennaio. Suso! Giocata classica! E poi due volte! Cutrone! Per ribadire in rete! Miglia! Pesca il jolly! Trova il suo primo gol! Pallone proprio per Borini, che arriva alla conclusione! E trova il poker! La doppietta di Patrick Cutrone scioglie i ferraresi e il Milan dilaga nel finale con i primi gol a rossoneri in campionato di Fabio Borini e Lucas Biglia. Il Milan sembra aver imboccato la strada giusta. La Spal deve trovare al più presto la sua.